La Toscana si prepara a ospitare a Firenze l'undicesima edizione dello Schermo dell'Arte Film Festival presentato nella sede della Presidenza della Regione Toscana dalla Vice Presidente e Assessora alla Cultura Monica Barni. Oltre 50 ospiti attesi dal 13 al 18 novembre al Cinema della Compagnia e nelle altre location dell'evento tra registi, artisti, produttori attivi nel mondo delle moving images per un festival unico per la sua programmazione tra cinema e arte. Un tuffo dell'arte contemporanea con linguaggi diversi, da prospettive diverse, con un pubblico anche molto diverso da quello a cui siamo abituati e siamo abituati a trovare nelle manifestazioni culturali di questa città e della nostra regione. In programma 25 opere tra lungometraggi e corti, documentari e film d'artista, grande evento atteso per la serata di apertura con il regista inglese Peter Greenaway che presenterà la lecture di Open Air. L'incontro che sarà dedicato al suo prossimo progetto che dovrebbe vedere la luce al Festival di Cannes del 2019 è un film dedicato a Brancusi, lo scultore famosissimo, che da giovanissimo camminò a piedi dalla Romania, il suo paese natale, fino a Parigi. Fu un viaggio che fece fra il 1903 e il 4, quasi due anni di cammino, per arrivare nella città dei suoi sogni. Il film di Greenaway si chiama Walking to Paris e ci ha detto che presenterà dei materiali inediti tratti da questo girato. Il 13 novembre, vigilia dell'apertura ufficiale, alle murate sarà inaugurata la mostra European Identities curata da Leonardo Bigazzi e dedicata a 12 giovani artisti residenti in Europa che operano con le immagini in movimento.